Israele ha lanciato un raid aereo contro il gruppo della Jihad Islamica a Gaza e in Siria in risposta al lancio di una ventina di razzi dalla striscia. Sei combattenti sono rimasti uccisi. Stando a quanto riferito dall'osservatorio siriano per i diritti umani, le vittime sono due membri del gruppo Jihad Islamica e quattro combattenti filo-iraniani. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un hub dell'attività della Jihad Islamica. La Siria però ha reso noto di aver abbattuto la maggior parte dei missili israeliani. Le violenze erano iniziate domenica mattina quando Israele aveva annunciato di aver ucciso un membro della Jihad Islamica al confine con la striscia di Gaza che tentava di installare un ordigno. Un video diffuso sui social mostrava un bulldozer israeliano che sollevava il corpo di un uomo, immagini che hanno provocato l'ira dei palestinesi. L'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte postazioni dei guardiani della rivoluzione iraniana e della Jihad Islamica a sud della capitale siriana a pochi chilometri dall'aeroporto internazionale di Damasco.